Villaggi preistorici, poi insediamenti arcaici e città antiche. E' questa l'identità di Acerra, città a nord della provincia di Napoli. La scoperta di un insediamento agricolo risalente al III secolo a.C. nella campagna di Acerra, con il suo apparato di molini, mortai e macine lascia intendere che gli antenati del luogo conoscessero le tecniche di preparazione degli alimenti a partire dai prodotti agricoli. Da origini preistoriche a colonia romana, dalla decadenza medievale alla rinascita settecentesca, dalla costituzione della contea a quella della municipalità ottocentesca, questa è la storia di Acerra. Grazie.